Era alta, magra, aveva soltanto un seno fermo e vigoroso da grumma, eppure non era più giovane, era pallida come se avesse sempre addosso alla varia, e su quel pallore due occhi grandi rossi, e delle labbra fresche e rosse che li mangiavano. Il soprannome era stato attribuito per via di quella sua abitudine di andarsene in giro sempre sola, andagia, come un lupo, e poi anche per quel suo gusto di tirarsi indietro in più delle volte con una semplice occhiata, figli e mariti delle donne del villaggio, per poi spolparli, appunto come l'avrebbe fatto un uomo affamato con un osso. In chiesa non si faceva mai vedere, ed era normale. Del resto dei tanti del villaggio consideravano che l'avesse già perduto o dato via l'anima. La sua povera figlia, maricchia, si disperava, al pensiero che, pur avendo una dote come tutte le altre ragazze, nessuno l'avrebbe mai presa al nome, a causa della madre che si ritrovava. Una volta, la lupa si innamorò di un bel ragazzo che era tornato da soldati, e mieteva il fieno con lei nelle chiuse le lontane. Ma proprio quello che si dice, innamorarsi, sentirsele anche nelle carni sotto il fustaglio del corpetto, e provare, fissandolo negli occhi, la sete che si ha nelle ore tante di giugno, di fondo alla pianura. Ma colui si guidava a mietere tranquillamente col naso sul marino e le diceva, «Oh, che avete, gnabina!» Nei campi immensi, dove scoppiettava soltanto il volo dei grigli, quando il sole batteva a piondo, la lupa affastellava manipoli su manipoli e covoni su covoni, senza stancarsi mai, senza rizzarsi un momento sulla vita, senza costare le labbra al fiasco, pur di stare sempre alle calcane di nani, che mieteva e mieteva, e le domandava di quando in quando, «Che volete, gnabina?» Una sera rile ne lo disse, mentre gli uomini sonnecchiavano nell'aio, stanchi della buca giornata, e i cani cucciolavano per la vasta campagna nera. «Te, gnabina, te che sei bello come il sole e dolce come i miei, voglio te!» «Ed io, invece, voglio vostra figlia, che è Zitella!» rispose l'unico in verde. Fu ottobre, all'epoca in cui si macinavano gli uomini per farne odio, che la lupa ebbe occasione di rivedere nani, intento a lavorare il torchio proprio attento alla sua casa. E allora, con il pretesto di un sacco di miei da portare a macinare, gli condusse la figlia, e gliel'offre l'inclusione. Disse che gli avrebbe dato in totte tutta la roba del padre e persino la propria casa. A lei bastava che le lasciassero un bagliereccio da dormire un anno lungo della cucina. Nani disse che la cosa si sarebbe potuta fare verso Natale di quell'anno. Ma quando la povera Maricchia cominciò a gridare che, così unto e sporco di olio, non lo avrebbe mai sposato, sua madre la ferrò nei capelli, davanti al focolare, e le disse con i denti stretti, «Se non lo vedi ti ammazzo!» Il tempo poi trascorso. Maricchia mise al mondo dei bambini, mentre la luta, che usciva a lavorare nei campi con uomini, ed era più infaticabile e coriacida di tutti i uomini si insieme, diventava, se possibile, ancora più grandaggio ai solitari. In quell'ora, fra vespera e nonna, in cui non ne va in volta femmina buona, Nella gnappina era la sola anima viva che si dovesse errare per la campagna, sui sassi rinfuocati delle viotto, fra le stoppie riarse dei campi immensi, che si credevano nell'afra, lontano, lontano, verso l'etno neglioso, dove il cielo si attravava su un orizzonte. «Svegliati!» disse la luba a Nanni, che dormiva nel fosso, accanto alla sede del berlusco, col capo fra le braccia. «Svegliati, che ti ho portato il vino per rinfrescarti la cura!» Nanni sbrancò gli occhi imbabolati, fra veglia e sombra, trovandosi da dinanzi ritta, palmi, col petto prepotente e gli occhi neri come il carbone, e stese drancolando le mani. «No!» «Non ne va in volta femmina buona, nell'ora fra destra e nona!» si inghezzavano Nanni, ricacciando la faccia contro l'erba secca di rossato, in fondo in fondo, con le unghie nei capelli. «Andatene! Andatene! Non ci venite più nell'aria!» e la segnalata, infatti, la lupa, gli annodando le tricce superi, guardando fisso dinanzi agli suoi passi, nelle stucche e calde, con gli occhi neri come il carbone. ma nell'aria ci tornò nelle altre volte, e Nanni non li disse nulla, e quando tardava a venire, nell'ora fra destra e nona, egli andava ad aspettarmi da in cima alla viottola bianca e deserta, col sudore sulla fronte. E dopo, dopo si cacciava le mani nei capelli, e le dimetteva ogni volta. «Andatene! Andatene! Non ci tornate più nell'aria!» Barichi appangeva molto giù, e alla madre le piantava in faccia gli occhi, ardenti di lacrime e di geluzione, come una lupacchiotta, che sa, quando la vedeva tornare dai campi, pallida e brutta ogni volta. «Scellerata!» mi diceva. «Mamma scelerata!» «Taccia!» «Ladra!» «Ladra!» «Taccia!» «Andato a brigadier!» «Taccia!» 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 come una pazza, perché adesso lo amava anche lei, un marito che le avevano dato per forza, unto e sudice dalle vite messe a fermentare. Il brigadiere mandò a chiamare Nani e provò a minacciare. Conoscere la trucia, cominciò a piangere, a sugliuzzare, giurando che non gli era stato possibile resistere alla tentazione. Pregare all'anzio che lo chiudessero di pragione, per impedirgli rivedere la lontana. Allorché il brigadiere andò a parlare con gli studi, e la ricordò come all'epoca del matrimonio, Nani e Maricchia avessero promesso di riservarvi un cantuccio per dormire sul pavimento della noce. In altre parole, la lupa fece chiaramente intendere che non sarebbe andata dalla propria casa. Poi accade che Nani venisse appreso a calcio in alpetto da un uomo e rischiasse seriamente di morire. Per sua struttura si rivise. E la lupa, che per un po' di tempo, credendo in moribondo, lo aveva lasciato in pace, tornò a tentarlo come aveva fatto in passato. «Lasciatemi stare», diceva la novità. «Per carità, lasciatemi in pace. Io ho visto la morte con gli occhi. La povera marita mi fa che risperarsi. Ora tutto il paese lo sa. Quando non mi vedo è meglio per voi e per me. Ed avrà venuto strafarsi gli occhi per non vedere quelli dell'alto che, quando gli si ficcavano nei suoi, gli facevano perdere l'anima e il corpo. Non sapeva più che fare per scingolarsi dall'incantesimo. Pagò delle messe alle anime del purgatorio e andò a chiedere aiuto al parco e al brigadiero. A Pasqua andò a confessarsi e fece pubblicamente sei palmi di lingua a strasciolore sul cioccoli del Sacrato innanzi la chiesa in penitenza. E poi, come la lupa tornava a tentarlo? Sentitevi, non ci vedete più nell'aria perché se tornate a cercarmi come il vero Dio vi ammazzo. Ammazza mia, scusa l'alba che non me ne importa. L'assenza di te è un paio straccio. e il come la scusa la luta in mezzo dei seminati verdi lasciò di zappare la vigoria e andò a staccare la scura dall'olio. la lupa lo vide venire pallido e stranumato con la scura che lucicava al sole. non si arretrò di un sol basso non chinò gli occhi si evitò adattargli incontro con le mani impiene di mani quando mi dava pavere rossi e mangiando solo gli occhi veri ah malanno all'anima vostra balbettonnante grazie a tutti Grazie.